l'occasione del bot si però fai sparire la torretta o la rendi innocua in pratica o quello che è? faccio in modo che non abbia mai premuto quel pulsante del sacro qualche miseria ti prego panculo si! doppio 15 ok quindi 40 40 proprio lo standard per fare in modo che accada perfetto ok e spendo 4 devi superare il valore dei bersagli coinvolti per dare effetto pieno ok quindi tecnicamente anche il valore della torretta che è stata attesa voglio aggiungere il dado eroismo vorreste sapere quanto mi ha aggiungi il dado di eroismo dammi retta 40 per la cazzo di torretta va bene uso un eroismo 1 2 2 19 allora oh avevo fatto anche un 19 che culo quindi doppio 19 doppio 15 ok quindi si doppio 19 è 40 meno 2 38 più 30 60 quindi perdi 8 punti magia bene muoio anch'io benissimo sul serio porca miseria sei svenuto si sono a 0 quindi che succede? beh la magia intanto ha funzionato però sono svenuto quindi ma che cazzo? però funziona si siamo svenuti però cicatura si o muoiamo direttamente credo che cicatri intanto Sigvaldi se n'è andato perché ho usato la magia eh e perché sei svenuto? sei tutto che hai voluto annullare si cavoli ma perché tu hai dovuto fermare il tempo? vai perché loro ci avrebbero scoperto all'inizio più che altro che hai sprecato 5 punti di magia a caso eh va bene dai la vita da prigioniero degli alieni non è male per quanto dura ci risveglieremo e ci rivediamo vi risvegliate sul ponte della nave incatenati alle tipiche croci eh a forza che ha l'aspetto come di energia strana elettrica tipo quella degli incredibili ok si e il ponte ha questa enorme elettrata da cui si vede la terra eh avete recuperato due punti eh magia o valore come volete magia beh intanto magia due punti magia solo sì perché avete riposato per due ore mazzo porca miseria è pochissimo già mi sa che se conquista la terra non è neanche un problema posso prendere da bere o da mangiare o qualsiasi cosa da bere non so da mangiare un po' ok vabbè intanto parlaci tu se parla la nostra lingua no beh tu li capisci comunque lui ok si ah quello cazzo si fa male vedi eh sul ponte appunto c'è eh il la poltrona del generale alieno grog il conquistatore questo enorme omone blu in armatura fantasy con spada fantasy e altre robe fantasy contrattiamo e al suo fianco quattro cavalieri alieni totalmente coperti da armatura di loro non si vede la faccia mentre grog è praticamente Yondu sottosteroide ok con pelato beh puoi contrattare dove sono i bicchieri lei sempre stati lì e sempre saranno lì io non lo so prendo i bicchieri che cosa volete fare? contratta no no odio questi bicchieri cazzo cosa vogliamo fare? contrattiamo vendiamo la terra la migliore offerente gli facciamo sparare gli dai qualcosa che loro non hanno e cioè che il loro pianeta non ha cioè c'è qualcosa dalla terra genio e cioè che cosa che non possono prendere conquistando la terra? la nostra libertà anche questa tu devi fare il classico giochetto che fotte gli alieni o i o i no non ho mai sistemato quindi li facciamo sbarcare sulla terra e intanto facciamo arrivare titanici l'ingagna parò speriamo Craig non parla la loro lingua non posso solo capire ho due punti ho due punti posso usare il bros verrei beh se usi una magia istantanea ha effetto comunque il problema è se usi una che abbia una durata quella lì dura con quello del farlo trasformare in una lì sì e allora è che loro ora non ti capisco già ma tu sai scrivere no? eh? sai scrivere in teoria sì ma non la loro lingua poi come faccio a scrivere? vabbè sì sei collegati comunque eccezione eccezione è che se io uso la magia per trasformare anche i svengoli si annulla che ti dobbiamo fare per liberarci? forza violenza forza violenza anche magia volendo perché si tratta di un campo energetico mi dici che cazzo dovete fare? allora prima che vi uccido datti una nostra perché guarda io sto soltanto vivendo la cucina va bene è un succo proficato va bene ecco perché è così buono ti ho interazione per parlare con gli ombri sottosterati ci provo eh anche se non so la loro lingua diciamo che visto che sono diventato alieno per un po' uso quel poco che ho che so della loro lingua praticamente l'italiano medio che parla inglese anche se ti dessi un numero minimo anche se ti dessi un numero minimo per questa cosa con tutti i ladditi e tiri non te ne faresti niente quindi che cacchio importa scusa in ogni caso farei 40 o qualcosa del genere e cos'è? usiamo a casaccio mmm beh se vuoi posso usare la mia mente per comunicare la a cosa si chiama un cavo talus si ma che puoi farlo why not? non hai la capacità di farlo ma che ho una percezione un sostegno divino cosa fa? ti permette di usare due due o più magie contemporaneamente è la magia più utile soltanto non l'abbiamo mai usata no potrei usarla adesso però si per cosa? hai soltanto due punti cazzo cosa facciamo? percezione extrasensoriale ok per capire cose ti prego doppio 19 più più 7 9,9,18 quindi è 45 giù di lì si è fatto ok senza problemi visto te l'ho detto ma cosa vuoi capire? bella domanda le loro intenzioni la loro lingua proprio nello specifico voglio impararle in questo preciso momento ok cosa? dobbiamo almeno capirlo porca miseria e capirlo lo capisci ma non puoi parlare prova da tirare la loro attenzione vai con mafia si ma ok ma mi hai fatto un tiro di interazione su percezione extrasensoriale per capire cosa? che cazzo vuole fare? per capire come parlano la loro lingua va bene potrai parlare con la loro lingua in versione rotta davvero? si come un orco che parla un umano va benissimo ok finalmente ok provo ad attirare la loro attenzione ok cosa dice? ah porca miseria se non fai un tiro abbastanza alto insusterai la loro mamma ha fatto un tiro alto direi no adesso? allora l'avevi detto il nome del generale? si groghi il conquistatore ah gli dico tu sei groghi il conquistatore proprio il possente groghi si giusto per fare le presentazioni minchia diciassette più la mia interazione che è sette sarebbe vintiquattra porca troia